C'è una macchina, c'è una macchina, c'è una macchina, c'è una macchina, c'è, c'è, c'è una macchina, c'è, c'è una macchina, 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 c'è c'è l'elfard, ci sono l'algema Buonasera amici miei, la lezione di oggi è molto facile, è molto semplice, basita e facile, è semplice Vedremo, soffa nara, vedremo c'è o c'è sono Nara hume, c'è l'essere o c'è Narif, c'è l'essere, c'è l'esere, io sono, io sono, io sono, tu sei, io sono, lei è, lui è, noi siamo, voi siete, loro sono Aca, c'è c'è l'esere, c'è il fornito, io sono, tu sei, io sono, io sono, là sono, io sono, io sono, io sono, io questo, io sono qui, c'èWe, sono cie, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei mi Si è meglio, ci sanno il concetto? Che è il qualsiasi Che è Che è un problema il problema C'è un problema Che è un problema Che è un problema C'è un problema C'è un problema C'è un problema C'è un problema Che è un problema Nessun caso Conte il caso non aggiornissimo solo che volωázio Cosa pensa? Trainbo di cose del caso? Cosa c'è qualcosa? cystino qualcosa gonna roba? Cosa pensa? Cosa c'è un problema? Normalizzare, non aggiornissimo che volumè? Cosa c'è un problema? Il caso in quino? Ratino. Cosa cannot ralà? Continuare a cambiare sin Anglo. Cosa c'è un problema? in da newtwo E terminiamo ZEE E che voluto Noi CHI siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo voi ci siete ci siete erano 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 loro 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 ci sono io ci sono loro ci sono erano erano ci siamo ci siamo ci siamo ci sono ci siamo ci siamo un traffico c'è traffico fuori c'è una macchina rossa lì c'è una macchina a destra c'è un palazzo vedi a destra c'è un palazzo a sinistra c'è una macchina a lìa sar huna kassiara o c'uġed a imara c'uġed c'uġed c'iara c'è un palazzo c'è una macchina c'è t'uġed a u hunek kien bidderija kien kiena a imara kiena panobil c'è una macchina c'è un palazzo Anlaza Indietro apre sđe una macchina c'è un palazzo t'uculu cosa c'è una cosa? O che cosa c'è dentro? Dun how? aggiorare il Momento a far il deritto un'utile tus laissez cuore sc qualcosa c'è qualcosa? uno c'è un one qualcosa c'è qualcosa ognuno Ci è qualcosa c'è qualcosa C'è qualcosa dentro C'è qualcosa inoltre i luci C'è qualcuno C'è qualcosa E non c'è solo un problema C'è qualcosa C'è qualcosa inoltre C'è qualcuno inoltre RI 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 DI 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 E' ат DI 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 non troppo qualcosa che c'è dentro non troppo qualcosa che c'è dentro c'è o c'è c'è o c'è 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 ci sono ci sono ragazzi davanti alla porta ci sono ragazzi fori Honeka fitien pil kharig O, ci sono tante macchine fuori Honeka sejarat kathira Nessi ci sono L'issuqel faqat tagherna bratsot Naqull, mesele Ci sono i parenti a casa Honeka abawajk fil menzill O, ci sono i genitori a casa Honeka walidik fil menzill Ci sono i genitori a casa U la, l'innefi Naqull, non ci sono Miei genitori a casa U la, non ci sono I miei parenti a casa Miei genitori, miei parenti Genitori, l'abawajk Parenti, l'walidin O, parenti Ta'ni, ta'ni aydan, l'aila Nel mulaħda Ci sono, naqull, mesele Ci sono i miei parenti a casa Honeka walidik fil menzill O, ci sono i miei genitori Honeka walidi Ci sono i miei genitori a casa Ci sono i miei genitori a casa Honeka walidi Ful menzill Ci sono i miei genitori a casa Nel scegl, ci sono i miei genitori a casa Nel scegl, ci sono i miei genitori a casa Nel scegl, ci sono i miei genitori a casa Nel scegl, ci sono i miei genitori a casa Nel scegl, ci sono i miei genitori a casa Meda giuget, una fog Cosa c'è qua sopra? Nel giovab, naqull Qua sopra, una fog, qua sopra C'è un profumo C'è una bottiglia e ci sono due bottiglie ci sono c'è una bottiglia ci sono due bottiglie c'è una bottiglia d'acqua c'è una bottiglia c'è una bottiglia c'è una bottiglia di profumo ci sono tre ci sono Grazie a tutti